Siamo qui con Alessandro Cottini, allora chi meglio di te ci può descrivere un po' quanto sta avvenendo intorno alla sesta edizione a gran fondo Tre Valli Varesine. Sì, i lavori sono iniziati subito all'indomani della quinta edizione, siamo a buon punto, già a buon punto, ritorniamo finalmente nel percorso originario, quello dei mondiali, percorso che attraversa tre laghi e percorso che è stato giudicato dal rating dell'UCI il miglior percorso delle 24 gare mondiali e una delle migliori organizzazioni. Noi abbiamo impegnato in questo, la nostra società è impegnata, la Tre Valli è diventata un impegno annuale, in quanto purtroppo ci sono delle incombenze come trovare 600 volontari sul percorso, come riuscire ad approvvigionare i ristori per gli atleti, gli ristori per gli atleti, ormai gli amatori diventa sempre più competitiva la categoria degli amatori, e quindi dobbiamo alzare sempre di più il livello della manifestazione e la preparazione nostra. Inoltre quest'anno saremo impegnati il giorno prima con la prima edizione della gara gravel, in realtà non è una gara ma una manifestazione, manifestazione che porterà, mentre per la gara per la Gran Fondo vale sempre come qualificazione per il campionato mondiale, la gara gravel sarà un qualcosa di più rilassato dove i partecipanti potranno godersi 75 chilometri nei nostri bellissimi territori e potranno ritornare, fermarsi a Ispra, ristorarsi con pasta, fagioli e vino rosso e potranno continuare gli altri 40 chilometri lungo un percorso inedito bellissimo, lungo fiumi, sterrati e laghi. Allora questo binomio Gran Fondo Gravel è un'esplosione di promozione del territorio? Sì, allora innanzitutto quest'anno la nostra Gran Fondo è entrata nel circuito Specialized World Series e questo è per noi un grandissimo orgoglio, cioè Specialized, uno dei più grossi, dei colossi mondiali, uno dei più grossi e prestigiosi produttori di biciclette, ha voluto costruire intorno al nostro Gran Fondo un circuito che abbraccia in primis le langhe Courmayeur, Sestrier e poi finirà il circuito a Varese nei nostri territori. Questo per noi è un motivo di grandissimo orgoglio che Specialized abbia voluto scegliere noi come capofila di un circuito di Gran Fondo che oggi è costituito da quattro gare e in futuro potrebbe ampliarsi maggiormente. Un'ottima cosa per la provincia intera, non solo per quello che è il discorso sportivo, l'abbiamo detto, ma anche promozione del territorio, dopo due anni di pandemia mi sembra che è arrivato il momento di ripartire e chi è meglio di chi gestisce tutte queste manifestazioni? Sì, infatti gli amatori si muovono con le famiglie e quindi portano sul territorio soggiorni, ricchezza sul territorio perché comunque dormono in albergo, mangiano nei ristoranti e possibilmente fanno anche spese e shopping nella nostra bellissima zona. L'anno scorso ci sono stati 1700 partecipanti e quindi vuol dire 3000 persone sul nostro territorio e sui nostri bellaghi. Questo è molto importante perché molto spesso, come faccio io, quando vado a fare gare in bellissimi territori, ritorno poi con la famiglia e quindi un aneddoto per i mondiali, tre belgi hanno comprato Casa Luino, per cui sono venuti qua e hanno fatto una settimana con le famiglie sul Lago Maggiore e hanno comprato Casa Luino. Questo per dire quanto può portare la Gran Fondo portando gli stranieri, l'anno scorso eravamo rappresentati da 22 paesi stranieri, portando stranieri nelle nostre zone e facendo vedere i bellissimi nostri territori e facendo innamorare anche magari i turisti dei nostri bellissimi territori. Allora, grazie innanzitutto Alessandro per queste belle notizie, per tutte queste curiosità che poi devono essere tradotte in una bellissima manifestazione. Tanti atleti che arrivano con famiglia e quant'altro e soprattutto viva il ciclismo, quello che piace a noi. Certo, viva il ciclismo ma soprattutto fatto in sicurezza perché è una cosa importantissima, grazie alle autorità e grazie alla polizia noi abbiamo la possibilità di far correre i ciclisti in un percorso chiuso al traffico. Sono soltanto due gare in Italia che hanno completamente il traffico chiuso. La nostra dà la possibilità ai ciclisti di vivere un giorno da professionisti e quindi potersi misurare. Innanzitutto noi avendo un format UCI e partendo per categoria ogni ciclista può misurarsi e gareggiare con i suoi pari età. E in circuito chiuso, quindi per un giorno si sente professionista arrivando poi all'arrivo della Trevalli-Varesine, quindi sotto l'arrivo della Trevalli-Varesine per cui si sente a tutti i livelli. Allora, grazie mille ancora Alessandro di queste belle notizie. Questo è il nostro primo appuntamento, ne seguiranno sicuramente degli altri dove andremo ad arricchire le novità, le curiosità e quant'altro. Grazie mille, grazie a voi. Grazie mille, ciao.